Programmi per Ferragosto? Vi aspetto il 15 agosto, come sempre, meglio di sempre, a Ponte di Legno, per parlare di quello che è successo ma soprattutto di quello che succederà, per parlare di lavoro, di tasse, di immigrazione, di Europa, di autonomia, con la Lega. Non ci interessa partecipare, ci interessa vincere, abbiamo bisogno delle vostre idee, dei vostri suggerimenti e della vostra partecipazione. Io ci sarò a Ferragosto, al palazzetto di Ponte di Legno, aspetto anche te.